Il centrodestra in quinta commissione getta giù la maschera, aveva dato disponibilità per tornare indietro circa la riserva del Borsacchio, invece i sei consiglieri di centrodestra presenti in commissione, nessuno della provincia di Teramo, ha detto no al nostro emendamento. L'emendamento voleva tornare alla posizione precedente, come era stato chiesto dal territorio e in particolar modo dal comune di Roseto con una delibera di consiglio approvata da tutte le componenti politiche di quel consiglio comunale, davvero una brutta pagina che scrive chi non è del nostro territorio, tant'è che i consiglieri di centrodestra del Teramano erano assenti, adesso verificheremo in aula al prossimo consiglio regionale la posizione dei consiglieri di centrodestra del Teramano.